Avrete probabilmente sentito nei giorni scorsi che Apple ha vissuto dei giorni piuttosto complicati a causa di un problema nella sicurezza dei propri sistemi. Ovviamente la cosa ha allarmato tutti i possessori, fruitori di prodotti Apple, ma la casa di Cupertino ha rilasciato immediatamente una patch per risolvere questi problemi, invitando i propri utenti a scaricarla e installarla prontamente. Ormai la sicurezza informatica è un tema molto delicato e Apple è sempre stata in prima fila nel puntare l'inattaccabilità dei propri sistemi. Ma allora che cos'è successo? Dobbiamo preoccuparci? Proviamo a fare un po' di chiarezza e vedere insieme quello che è accaduto e cosa succederà, non prima di avervi invitato a fare un bel subscribe al canale se vorrete rimanere sempre aggiornati su quello che succede. E ora rentriamoci nel torbido mondo della cyber security. Non andremo a parlare di cose super tecniche, di paroloni incomprensibili anche perché probabilmente sarei il meno adatto a farlo, ma facciamo un breve riassunto di quello che è successo e chi ne potrebbe essere coinvolto. Il 18 agosto Apple rende noto con un comunicato che i propri sistemi hanno una falla in grado di compromettere la sicurezza tanto da permettere, tramite quel punto di debolezza, ai malintenzionati di prendere possesso dei dispositivi degli utenti. Uno dei punti di debolezza riguarda il kernel, ovvero lo strato più alla base del sistema operativo iOS, mentre l'altro riguarda WebKit, ovvero la tecnologia alla base del browser Safari. Per questo ultimo problema basta eseguire un software indesiderato sul dispositivo tramite delle finestre di navigazione web create dal potenziale intruso per fare dei danni. Questo ovviamente, detto così, spaventa molto l'utente medio, però dobbiamo sapere anche che tutti i sistemi, Apple compresa, rilasciano patch e aggiornamenti con buona continuità per risolvere questi problemi di sicurezza, problemi di compatibilità e chi più ne ha più ne metta. Questo ovviamente essendo stato reso pubblico comunque unicato ha suscitato molto più scalpore, anche se molti esperti del settore hanno stigmatizzato, dicendo che per l'utente medio il problema in realtà è relativo. Una volta installata la patch tutto sarà sistemato e difficilmente il poco tempo avuto a disposizione dei malintenzionati avrebbe colpito la gente comune orientandosi magari più su infrastrutture politiche economiche o simili. Il problema sarebbe stato scoperto da un ricercatore autonomo e questi tipi di problemi sono chiamati vulnerabilità zero day e viene spiegato in parole molto facili dall'esperto di cyber security Riccardo Meggiato. È come scoprire che la porta blindata di casa abbia un difetto e possa essere aperto dalla stessa chiave che apre la casa di un'altra persona. Se nessuno è a conoscenza del difetto si entra e si esce come se nulla fosse. Ma se questo viene scoperto e il prima a farlo fosse un ladro ecco che entrerà e uscirà da casa nostra senza che né noi né la casa produttiva della porta possa sapere nulla. Questo è ciò che a grandi linee è successo in questo caso e i ladri scopritori sono poi quelli che possono vendere questa scoperta a società di cybercriminali innescando un problema potenzialmente avalanga. Ma quindi in definitiva chi è stato colpito da questo problema? Sul sito di Apple i dispositivi coinvolti riguardano gli iPhone 6s e successivi, tutti gli iPad Pro nonché gli iPad di quinta generazione e successivi, infine i Mac con MacOS Monterey. Ma quindi cosa fare per risolverlo? Molto semplicemente aggiornate i vostri dispositivi all'ultimo update disponibile e se non sarete esenti al 100% da problemi perché questo è impossibile ridurrete di molto il rischio. Di certo è difficile ridurre il rischio se si condividono le password ad esempio e secondo uno studio di Keeper Security il 62% degli individui trasmette password tramite sms o email. Il 57% le annota su dei post-it mentre il 34% le condivide con i colleghi. Per questo motivo Apple ma anche altri stanno lavorando per nuove forme di autenticazione. Per dire addio a captcha e password sta sviluppando due nuove tecnologie Privacy Pass e Passkey. Anche in questo caso non entriamo in tecnicismi esagerati. Passkey eliminerà captcha in base alla tecnologia PAT, Privacy Access Token che automatizza il processo riconoscendo le richieste dell'utente senza che esso debba intervenire con codici o azioni. È simile all'emissione di certificati e tutto questo avviene dietro gli occhi dell'utente tramite la comunicazione e diversi passaggi tra sito web e dispositivo dell'utente. Si arriva poi a un input dato dal dispositivo dell'utente stesso che arriva al sito e viene accettato dando così l'accesso. Passkey invece è ancora più evoluto e con un obiettivo più alto, anzi altissimo diciamo, eliminare le password. Passkey si basa su uno standard avanzatissimo chiamato Fido, come il cane, che punta ad una identificazione multifattore, come quella che conoscete già con le conferme tramite sms per esempio, che genera delle chiavi criptografate. Queste necessitano poi di un controllo biometrico con uno smartphone, ad esempio scannerizzando un QR code direttamente per autenticare senza altri passaggi. Ma quindi cosa ci portiamo a a casa da questo ragionamento? Innanzitutto che oggi come mai è necessario essere aggiornati con le ultime patch che il vostro sistema operativo produce, che serve molta 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 attenzione alla gestione della sicurezza e che il futuro senza passo probabilmente è più vicino di quello che si possa pensare. Apple sì ha avuto un buco nei propri sistemi, sintomo che nessuno a questo mondo è inattaccabile e vi ha posto rimedio immediatamente, ma non c'è nessuna porta blindata che vi protegga se date 10 copie delle vostre chiavi in giro. Molto parte da voi come il futuro di questo canale, quindi se il video vi è piaciuto e vi è aiutato anche solamente un pochino a capire, mettete un like per farmelo sapere. Io vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo e vi do appuntamento molto presto qui sul mio canale YouTube per un nuovo video. Alla prossima!